Anche su mediashopping.it Passata, pelati, pomodorini La Torrente, il buon pomodoro italiano È lunedì 16 aprile, sono le 6 Buongiorno a tutti e benvenuti a Prima Pagina Buongiorno da un TG5 tutto nuovo Dalla sigla al logo, dalla grafica allo studio Quello che non cambia è il nostro impegno quotidiano Per un'informazione puntuale, corretta e approfondita Quella che in questi 26 anni di vita del TG5 Avete premiato con un'attenzione sempre crescente E quella che si apre oggi è una settimana cruciale Per la formazione del nuovo governo La decisione del Capo dello Stato Con un pre-incarico oppure un incarico esplorativo Potrebbe arrivare questo mercoledì Ma intanto la giornata di ieri ci racconta Di veti e distanze tra le forze politiche Che restano immutate Grazie a tutti